Con il favore del campo, domani l'Olimpia agnonese affronterà l'Aquila. Le abruzzesi sono reduci dalla vittoria interna contro la Sangiustese, uno scontro diretto tra due squadre che sono in corsa per un posto nei play-off. All'andata il match andò proprio agli Aquilani, che superarono 2-1 e Granata. Domani i Rosso-Blu viaggeranno alla volta del Molise con lo stesso obiettivo. L'Aquila avrà un occhio di riguardo anche per la sua diretta concorrente Sangiustese, che condivide il sesto posto in classifica con gli stessi punti, 33. L'Olimpia agnonese sta affrontando un periodo delicato. La squadra, nelle ultime 5 giornate, cioè negli ultimi 450 minuti, ha messo a segno una sola rete, un attacco che non riesce a sbloccarsi del tutto. Infatti, a detta del dirigente Marinelli, il problema del team alto-molisano è esclusivamente di natura psicologica. Naturalmente la società chiama a raccolta i tifosi. La squadra, ora più che mai, ha bisogno del calore del pubblico. Contro l'Aquila qualche dubbio riguarda proprio l'attacco. Mister Pino Di Meo scioglierà gli ultimi dubbi in queste ore, anche se fino ad ora non è trapolato nulla sull'undici iniziale. In Porta Faiella, difesa a 4 con Corbo, guerra a rullo e fra botta. Al centro del campo di Lollo, affiancato da Corso e Madi, in attacco il tridente potrebbe essere formato da Niang, Giglio e Ceria. Dopo l'Aquila, gli alto-molisani sono attesi dal derby nel capoluogo contro il Campobasso per poi tornare al Civitelle ed ospitare l'Avezzano. Con fischio di inizio alle 14.30, Agnonese L'Aquila sarà diretta dal signor Alessio Angiolari della sezione di Ossia Lido, coadiuvato dai due assistenti di Latina, Federico Fratello e Fabrizio Almanza. Grazie a tutti.